Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di nuovo in sacchiapello Deuter, nel particolare ho qua il modello Orbit da meno 5 in sintetico e Astro 500 in piuma. Adesso insieme vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Inizio subito dal modello in sintetico Orbit, io ho avuto modo di provare quello da meno 5, ma esistono anche da 0,5 gradi. È un sacchiapello, come vi dicevo, in sintetico che pesa 1,7 kg. È un sacchiapello che ha delle caratteristiche molto interessanti, iniziando dalla sua imbottitura, perché è un'imbottitura veramente molto calda. Io vi assicuro questo sacchiapello è dato per meno 5, ma secondo me ci si potrebbe andare bene anche qualche grado sotto, perché è utilizzato a meno 5 e io dentro ci ho dormito anche abbastanza al caldo. Dal punto di vista delle caratteristiche troviamo una cerniera sulla parte di sinistra o di destra, in base a quello che comprate, fatta veramente molto bene, con doppio cursore, che non ha nessun problema, non si blocca da questo punto di vista, è veramente un'ottima cerniera. Nella parte interna troviamo una piccola taschina dove poter andare a riporre qualche oggetto che vogliono tenere al caldo la notte, e tutta la parte superiore del collare attorno alla testa si può stringere con due fibie elastiche. Queste fibie elastiche fanno sì che noi potremo stringere sia la parte superiore attorno alla nostra testa, sia la parte che va a chiudere poi in sé il sacco a pelo. Da questo punto di vista possiamo veramente isolarci molto molto bene da tutto il freddo esterno, isolarci anche dal vento. Come si sta all'interno devo dire molto bene, perché è un sacco a pelo anche abbastanza grosso, nonostante sia mummia, sia nella parte dei piedi sia nella parte del busto si ha abbastanza spazio, ci si sta dentro veramente molto bene, ed oltre a ciò vi ricordo che esiste anche la versione più lunga per chi è magari un pochino più grosso, e la versione è pensata proprio da donna. L'unica pecca che abbiamo su questo sacco a pelo però sono le sue dimensioni, infatti da richiuso vi assicuro è veramente veramente grosso. Io personalmente vi consiglio più magari di optare per il modello da 5 o 0 gradi, questo perché veramente questo modello da meno 5 è molto molto grosso, ed essendo così grosso è anche difficile da trasportare. Il modello da meno 5 adesso vedremo l'astro che è sicuramente più adatto per questo tipo di temperature. Nel particolare dunque questo modello da meno 5 gradi diciamo che ve lo consiglio più magari per dei viaggi, lifestyle, sicuramente non magari per del backpacking, del trekking spinto, diciamo sicuramente più magari anche per del campeggio, proprio perché come vi dicevo è una sacca che lo contiene che arriva fino a 27 litri ed è veramente grosso, veramente tanto tanto grosso. Passando invece al modello astro 500, come dicevo lui è in piuma, pesa nel modello da meno 5, un chilo, un chilo esatto. E vi ricordo che esistono poi anche modelli EL perché è più lungo, il modello specifico da donna, e di lui ne esistono anche i modelli da 0 e meno 10 gradi. Una piuma che è di tipo 80-20 con un fill power di 600, una piuma che devo dire comunque mi è piaciuto e mi è piaciuto tanto dormirci all'interno. Un sacco a pelo pochino più stretto rispetto all'orbite che abbiamo visto prima, soprattutto nella parte dei piedi tende a stringersi molto. Un sacco a pelo che in questo caso magari dovremo abbastanza prendere in considerazione la versione EL se siamo alti 1,90 m. Da punto di vista poi di tutte le feature, anche qua troviamo un'ottima zip laterale che si può avere sia a destra che a sinistra in base al modello che scegliete. Una zip che scorre molto bene, non si intoppa, da questo punto di vista fatta veramente bene. Tutta la parte superiore del collare anche qua lo si può stringere con due corsori, uno superiore per tutto il collare e uno che va a chiudere proprio tutta la parte del sacco a pelo. Da questo punto di vista poi all'interno troviamo anche la taschina dove riporre qualche oggetto. Diciamo che per quanto riguarda le caratteristiche sono veramente molto simili questi due sacchi a pelo. Quello che cambia però è come è strutturato questo Astro 500. Infatti troviamo tutte delle camere orizzontali che vanno a contenere la piuma. In questo modo ci eviterà che la piuma vada in giro all'interno del sacco a pelo e che magari avremo delle zone vuote che tenderanno a raffreddarsi. Inoltre entrambi questi sacco a pelo hanno un sistema a 360 gradi che fa sì che tutta l'imbottitura sia ben distribuita. Quindi non avremo mai dei punti in cui non abbiamo imbottitura e magari soffriamo al freddo. A livello di temperature come vi dicevo lui è un più uno di comfort, meno quattro di limite, meno ventuno di estrema. Grazie a questa temperatura e grazie anche al suo peso e a sue dimensioni questo sacco a pelo è l'ideale per trekking, backpacking, diciamo quando dobbiamo magari mettere all'interno dello zaino e farci dei trekking da rifugio a rifugio, in tenda e via dicendo. È sicuramente più consigliato per il trekking rispetto all'orbite che abbiamo visto prima. Arriviamo dunque alle conclusioni per questi due sacchi a pelo di Deuter. Iniziamo dai prezzi perché l'Astro 500 viene venduto online sui 300€ mentre l'Orbit a meno 5 viene venduto online sui 110-120€. Ve li consiglio? Sì, sì però tenete conto dove dovete utilizzarli. Come vi dicevo l'Astro 500 è sicuramente più indicato per il trekking, il backpacking quando abbiamo bisogno di qualcosa di piccolo o leggero a tenere nello zaino. L'Orbit, soprattutto è una versione da meno 5, ve lo sconsiglio per il trekking perché è veramente grosso. Ve lo consiglio molto più per il campeggio. Allo stesso modo però la famiglia Orbit è una famiglia sicuramente ottima, ha gli ottimi materiali e fatta molto bene. Quindi se state cercando un sacco a pelo in sintetico, magari vi consiglio sì l'Orbit ma nelle versioni con temperatura maggiore, quindi magari da 0 o 5 gradi che comunque sono molto più piccole a livello di dimensioni. E detto ciao ragazzi, una speranza sia stato esattamente su Stima anche per questo video. Vi ringrazio per l'ho guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!